È l'undicesimo giorno in Giappone, ormai siamo quasi verso la fine, adesso ci siamo svegliati prima di spostarci in hotel, sono le otto e un quarto, cosa del genere, stiamo andando a prendere qualcosa per la colazione dal nostro amico lungo la strada, non da quello che fai noodles, c'è una specie di panetteria. Prendiamo la colazione, torniamo a casina, facciamo le borse, ci spostiamo all'hotel e abbandoniamo la casina adesso. Il nostro amico panettiere, o la nostra amica panetteria, è chiusa, ancora. Siamo venuti qua anche ieri e era chiusa. Andremo al 7-Eleven che è tipo là a prendere qualcosina come al solito. Qua si è riuscita a mangiare una sola volta e io ho preso il panino al care. Ma porca puttana. Siamo tornati dal nostro caro e fidato 7-Eleven e abbiamo comprato questa tortina che mi è costata ben 3 dollari e dovrebbe essere una di quelle tipiche giapponesi, quelle che fanno tutta morbidosa. Tipo cheesecake. E Silvia ha comprato sto coso al cioccolato che sembra molto buono. Poi sulla via di casa ci siamo fermate le macchinette, io ho preso il cider, come si dice in italiano? C'è citerata? Sì. All'ananas come succo e Silvia si è comprata il caffè latte che spero scaldi perché è ghiacciato. Siamo usciti di casa e direi che si vede dato che siamo imbarbati, Silvia si è incastrata. Adesso stiamo andando a prendere il treno, la metro quel cavolo che l'è, ed è a un quarto d'ora a piedi da qua perché è la cosa più comoda, almeno non dobbiamo cambiare mille mezzi, ci si mette uguale. Dovremmo solo cambiare un pochettino. Adesso andiamo al centurion, andiamo all'hotel, lasciamo giù tutta sta roba e giriamo un pochetto la zona finché non possiamo fare il check in. Lunga e estenuante ma ce l'abbiamo fatta. Alla fine, l'altra volta ho ripreso dall'ingresso sul retro. Dobbiamo stare in giro fino alle 3, poi possiamo stare in camera. Tra l'altro vicino al nostro hotel c'è un ristorante che fa il fugu, che è il pesce palla. Ce l'hanno anche in vetrina. Io ormai l'ho provato e anche perché qua costa 4.480 yen, che sono tipo 40 dollari. 50 dollari. Però ce l'hanno anche in vetrina. Ci siamo fermati anche in risturantino per il pranzo. Abbiamo già mangiato in questo posto, però abbiamo provato piatti diversi. In pratica tu prendi i bigliettini di da loro e loro fanno il vassoio tutta la parte al tavolo. Fanno i soba, fanno varie cose. Adesso poi riprendo quello che abbiamo preso noi. Questo è il piatto che ha preso Silvia del riso, con sopra la cotoletta roba varia e la zuppa di miso, come sempre. E io ho preso più o meno la stessa cosa. Il riso è sotto, qua c'è la cotoletta, però sopra c'è il curry, che volevo provarlo, e la zuppa di miso. E siamo saluti qua. Questo è tutto lo spazio che c'è. Finita anche la pappa, adesso andiamo a cercare il dolcetto, come sempre. Siamo arrivati allo Starbucks. Silvia è in bagno, come al solito. Abbiamo preso un mocha. Questo è il mocha, che è una specie di cioccolata. Adesso la apro. Un secondo. Ah, arriva Silvia. Il mocha. Mi aspettavo anche il cacao sopra, però vabbè. Noi lo facevamo meglio al mio ristorante. E il caramel macchiato. Certo che se uno deve spendere ogni volta 10 dollari per persi un caffè dopo pranzo, fega. Siamo arrivati all'hotel. Qua c'è l'ascensore da dove siamo usciti. Non siamo ancora entrati in camera. Qua c'è l'ascensore. Siamo arrivati qua. Di là c'è sulle finestrone. Noi abbiamo il numero 610, quindi di qua. Qua. 610 prego. Andiamo. Lasciamo le pepette. Non si vede niente. Bravo, spegniamo tutte le luci. Tanto non sto registrando. Ma dov'è la luce, signori? Uh, ho tornato la luce. Uh, ho tornato l'altra luce. Ok. C'è il cucinino. Ovviamente le ciabattine. Adesso poi io me le metto. C'è la lavatrice. Con boh robe. Quello è l'ingresso. La cappa. Il lavandino. Le tazzine. Vediamo cosa c'è qua sotto. Niente. Di qua. C'è il frigo. Che sarà pieno di cose a pagamento. No, invece è vuoto. Poi c'è il... Ci hanno messo... Ci hanno portato su i bagagli. Ci hanno portato su. Poveretti i cristi che li hanno dovuti portare su perché pesano l'infinito. Però c'è l'armadio. Il numero... Questo è il letto. È come al solito piccolo. Perché è per due persone. Ed è una penna grande per una. È là la finestra. Vediamo la finestra. C'è un free smartphone. Vabbè. E qua c'è la finestra che vorrei riuscire ad aprire senza inzozzare il letto perché ci sono tutto a zozzo. Si sta aprendo. Wow. Bella. La colazione è dalle sei e mezza del mattino. E abbiamo... Ovviamente abbiamo compreso la colazione. Abbiamo il bagno gigante. Abbiamo i... I coupon. Andiamo nel coso... Nel ristorante a fianco e mangiamo per tutti i giorni. Oh. Il bagno è bello. Bella doccia. Che adesso mi farò subito. Un bel lavandino. Il... Il batter elettrico. Il batter elettrico. Qua pigi. E si apre. Si apre anche quello. Bravo. Tutta questa è riscaldata, eh. La... 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 La tavoletta. Poi... Questi sono i due sciacquoni. C'è lo sciacquone piccino e lo sciacquone per quella grossa. E questo è il phon per i peli del sedere. Adesso sono le quattro e mezza e andiamo a Minato. Vorremmo arrivare alla prima delle sei perché il tempio che vogliamo visitare chiude alle sei. In pratica a Minato c'è poi tutta una zona, se non sbaglio Daiva si chiama, che è un'isola artificiale costruita. Quindi puoi arrivarci con Rainbow Bridge appunto. Siamo arrivati a Minato. Stiamo andando verso il tempio. Qua le vie sono anche più piccine del solito. Proprio siamo in mezzo alle casette. E noi stiamo seguendo il navigator. Così quanto... Qui è a tutto? E noi stiamo vivendo l' судicazione. Io? E noi stiamo vivendo. Ciao, così fa! Io stiamo vivendo i miei сидori. Sì! O pok! Io ecco è quello che è davvero aqui. Questo è quello che è ancora in mezzo o pretend cosmical. In pratica tutta queste persone sono dimostril im هوale, le tombe dei 47 Ronin, che è l'argomento della mia tesi di laurea. Ci sono tutte le tombe, questa se non sbaglio è la tomba del loro daimyo, del master, e poi sono tutte le altre. Finito anche col Tempio dei 47 Ronin, adesso ci spostiamo verso il Rainbow Bridge per la pappa. Per andare al Rainbow Bridge bisogna passare in sto cunicolo che sembra uscito da un film horror. Si vede che stiamo andando verso il mare, incominciano ad esserci un sacco di fiumi, ponticelli, anche di là una silvia. Quello, quello là dovrebbe essere il Rainbow Bridge, che al momento è tutto tranne che il Rainbow. Ok siamo sotto il Rainbow Bridge, adesso c'è l'ascensore che ci vuole portare su, vediamo. Sto ponte non finisce più! Forse siamo arrivati alla fine? No. No, c'è ancora! Siamo arrivati alla fine del ponte! Madonna, tutto quello, tutto quello! In un modo o nell'altro noi finiamo sempre nei centri commerciali, sempre. Questo è il centro commerciale più strano che io abbia mai visto. Non è un centro commerciale, è come al solito un insieme di negozietti con roba. E alla fine ci siamo rientrati a mangiare all'olio can it. Puoi prendere un po' tutto quello che vuoi, c'è il sushi. Farò un po' a cagare, vabbè. Amen! Abbiamo finito la cena all'olio can it e meh, abbiamo speso tipo 50 dollari quanto avremmo speso per il resto della settimana. Però vabbè, ci ripaghiamo tra virgolette, andando a vedere l'estate della libertà. Alla chiudere Lei Alla chiudere In